Ciao, sono Patrizio Riechioni, ho 28 anni e sono di Roma. Vivo a Roma, precisamente a Spinaceto, lo stesso quartiere dove sono andato e cresciuto. L'idea di fare l'attore l'ho avuta fin da piccolissimo, vedendo un film che mi ha accompagnato per tutta l'età infantile e adolescenziale e che mi ha ispirato molto, Navigator, un film di fantascienza. A cui sento che devo molto per aver poi intrapreso un percorso di recitazione a 19 anni, al teatro della dodicesima, e poi aver proseguito un percorso professionale a teatro azione la scuola dove poi mi sono diplomato. E tuttora lavoro principalmente a teatro, grazie, e con soprattutto la compagnia Versus, una compagnia uscita sempre da teatrazione e con la quale scriviamo, dirigiamo, produciamo e interpretiamo testi teatrali. Grazie, ciao! Ciao!